Abbiamo fatto una prestazione gagliarda, importante, con un primo tempo secondo me veramente fatto di qualità e di grandissima intensità devo fare complimenti ai ragazzi per l'interpretazione della gara sia nella fase difensiva che nella fase offensiva. Non mi sono piaciuti solo i primi dieci minuti del secondo tempo dove siamo stati un po' leggeri, un po' superficiali e siccome nel calcio ho l'esperienza per aver giocato tanti anni l'allenatore forse ancora ne ho fatta poca però l'esperienza per capire che le partite cambiano facilmente, indirizzo, una partita che avevamo indirizzato alla grande e che abbiamo nelle nostre mani non dobbiamo lasciare adito agli altri di riaprirla per superficialità. Siccome ci siamo già passati a Gladiator quello che succede nella vita, le esperienze che si fanno nella vita bisogna farne tesoro e noi i primi dieci minuti secondo me siamo stati leggermente superficiali. Non l'abbiamo pagato perché poi abbiamo impattato bene però abbiamo lasciato alcuni presupposti per cui loro potevano rendersi pericolosi e poi ci abbiamo messo una pezza, poi i difensori sono stati bravi però in un primo tempo dove non sono mai entrati in area di rigore non possiamo stare così bassi e concedergli magari il cross in più, la pallina attiva in più perché poi da lì possono scaturire tante situazioni. Detto ciò dopo devo dire che la squadra poi si è ripresa e abbiamo fatto poi dopo molto bene, siamo riusciti a fare il terzo gol, un grande movimento di chicco e poi abbiamo chiuso con Raffaele, molto bene dai poi bisogna anche essere contenti di quello che la squadra sta facendo continuando però a limare qualche piccola situazione perché se si vuole arrivare fino in fondo siccome le difficoltà sono tante bisogna rasentare la perfezione o bisogna tendere a quella. Senti tu so che lavori settimana per settimana cioè non guardi mai oltre due settimane, la prossima settimana abbiamo il vino in casa loro. Abbiamo una squadra complicata, una squadra che contro le grandi ha sempre fornito grandi prestazioni, una squadra che magari in questo campionato non è stata sempre costante ma una squadra che ha avuto dei picchi importanti perché ricordo tante partite in cui hanno fatto veramente prestazioni importanti e possono mettere in difficoltà chiunque quindi sappiamo che ci aspetta un'altra battaglia e godiamoci la vittoria questa sera ma da domani mattina ci rimetteremo al lavoro per pensare già alla prossima. Ti faccio un'ultima domanda su Raffaele Vacca, la situazione? Spero, forse è l'unica nota dolente oggi, sembrerebbe che non sia un problema così grave, lui si è fermato subito, ha avuto tipo, ha sentito, ha avuto una sensazione di crampo al polpaccio. Vediamo, con i medici da domani valuteremo, spero che non sia niente di grave perché in questo momento rosicherei a perdere dei giocatori importanti perché tutti quelli che ho in panchina sono tutti importanti, lo stanno dimostrando tutti e quindi vorrei avere a disposizione tutti sapendo che devo fare delle scelte sapendo che quando saremo tutti qualcuno andrà in tribuna ma preferisco fare queste scelte e dovermi prendere l'onere di dover mandare qualcuno in tribuna però averli tutti a disposizione che non perdere qualche giocatore. Quindi spero che Raffaele non sia niente di grave vediamo, mi dispiace perché oggi è entrato anche bene, ha fatto gol, è un ragazzo che ci sta dando tanto, all'inizio ha fatto un di fatica anche a prendere le condizioni perché lui ha una struttura muscolare importante e ora però sta molto bene quindi spero proprio che possa tornare ad allenarsi e continuare ad avere il suo ritmo perché è un giocatore che fino alla fine ci darà una grossa mano.